Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare l'Associazione Il Colore della Pace per aver dato l'opportunità al Club Alpino Italiano di Massa e al Festival Culturale in Quota Musica sulla Fuane di contribuire con la nostra musica alla Giornata Internazionale della Pace delle Nazioni Unite. Il nostro video ha per teatro il Monumento Sarri e Martiri di Sant'Anna di Staziema, luogo di una delle tante feroci stragi che purtroppo accompagnano la storia dell'uomo. Nostra intenzione è quella di ricordare ciò che è stato perché crediamo che la pace e la cooperazione tra i popoli siano prerequisiti imprescindibili per la costruzione di una società realmente umana. Ricordiamo una strage avvenuta 77 anni fa per mano dei nazifascisti. Lo facciamo perché Sant'Anna di Staziema è il simbolo della barbara umana per noi che abitiamo in Toscana, in Italia, geograficamente più vicino, ma il mondo è pieno di tante Sant'Anna di Staziema, conosciute o poco ricordate, notane nel tempo o storia dei giornali di oggi. Il mondo a cui aspiriamo è ovviamente ben diverso. In esso parole chiave fondamentali sono dignità, libertà, fratellanza, parole antiche, possibilità materiale di aspirare alla propria autorealizzazione e alla propria felicità. È strano doverlo dire ancora oggi nel 2021, ma diciamolo senza retori. Viva la pace. Grazie a tutti. 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 a tutti.